Per i giudei il banchetto più importante era quello della cena pasquale, che si faceva come memoriale della liberazione di Israele dall'Egitto e dall'alleanza del Sinai. Fu proprio in occasione di tale cena che Gesù istituì l'Eucaristia, come afferma l'Apostolo San Paolo, con parole sobree e concise, descrive il momento solenne dell'istituzione dell'Eucaristia. Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e disse, questo è il mio corpo, che è stato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, presa il calice di cento, questo è il calice della nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue. Ogni volta, infatti, che manciate di questo pane e bevete di questo calice, voi manciate la morte del Signore fino a quando Egli verrà. Gli atti degli Apostoli riferiscono che dopo l'ascensione al cielo di Gesù, i primi cristiani erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna nella frazione del pane e nella preghiera. La messa è un panchetto in cui Dio mette, cerca meglio, di riunire i Suoi figli, di ricreare uno spirito di famiglia. È Dio che offre il banchetto equalistico. È la sua gioia più grande, è proprio questa, restare con i Suoi figli e gioire con essi nello stare insieme. Padre Pio, come ha vissuto la sua vita eucaristica? Sappiamo molto bene che dalle prime ore del mattino era già sveglio e si preparava con la preghiera, con la meditazione, con l'ufficio divino, si preparava alla celebrazione dell'Eucaristia. Ecco, io ricordo, e lo ricordo anche con una certa simpatia, che per potermi confessare da lui mi fu suggerito di alzarmi presto e andare nella camera sua. E di fatti mi alzai alle tre di notte e quindi a quell'ora io entrai nella stanza di Padre Pio che mi accolse e chiese di confessarmi e mi confessò. Quindi Padre Pio alle tre di notte già era seduto al tavolino ed era già calato nella riflessione, nella meditazione per prepararsi bene alla celebrazione eucaristica. E sappiamo anche che l'orario dei pullman di arriva a San Giovanni Rotondo erano tutti indicati alla messa di Padre Pio. Questo che cosa ci dice? Che anche il popolo di Dio percepiva l'importanza della messa e quindi tutti volevano stare vicino a Padre Pio, intorno a Padre Pio ed era un grande sacrificio perché la chiesa non era la chiesa grande, era la piccolina e quindi si stava pigiati, si stava scomodi, ma non si sentiva un movimento, non c'era una distrazione, erano tutti presi a partecipare alla messa insieme a Padre Pio. E quindi Padre Pio ci teneva anche a inculcare nei figli spirituali di fare la comunione durante la messa, un panchetto senza mangiare o una contraddizione. E a un figlio spirituale che diceva che avendo avuto dei dubbi non aveva fatto la comunione, disse se lo fai un'altra volta ricordetelo che io ti tratterò come meriti perché non si lascia la comunione per dei semplici dubbi. Era attento anche a suggerire alla partecipazione, non alla comunione equadistica, ma anche all'esercizio della comunione spirituale. educava i suoi figli spirituali che durante la giornata, stanto sul posto di lavoro, stanto in casa, stanto in ufficio, al mercato, dovunque un pensiero a Gesù sacramentato, Signore, viene nel mio cuore, non ti posso ricevere sacramentalmente, viene nel mio cuore spiritualmente. Ecco, educava i figli spirituali ad essere in continuo contatto con lo spirito dell'Equalistia. E poi l'ora di adorazione. Padre Pio ci teneva tanto all'ora di adorazione che preparava lui stesso le riflessioni, le leggeva, ma era un'attenzione così forte che in Chiesa non c'era nessuno che si muoveva, si creava un clima di grande raccoglimento, perché era Padre Pio che infonteva questo sentimento di raccoglimento e di amore verso Gesù e Eucharistia.